Io a volte mollavo il treno, mica a volte non sapevo come cazzo, a volte il cuore ti va nello stono. Sì, come soprattutto l'impianto. Abbiamo dovuto lavorare tutti questi anni in produzione con impianti degli anni 50, combinati nel disastro, gli abbiamo fatto la produzione perché cazzo producevamo veramente fino a poco tempo fa più di terni. E che sta ringraziando? Sai che c'è Speranza ieri a fine riunioni? Io ci stringo la mano e mi dispiace. Mi dispiace. Questo è tutto quello che hai da dirmi, mi dispiace. Ti dico che su 100 ponti ci sono qua dentro 90 sono a iattare. No veramente caso per il 100% del nostro abbellimento mi sa che 90 è rottame. Perché l'altro 10% è scocci di manutenzione perché da tempo ormai andiamo avanti a scocci. Già perde quel tubo. Lo scocci ce l'avete? E via. Ci cammina sulla testa dei ragazzi. No ma qualcuno dice che questo invece è un posto... È la colpa. Io faccio il gruistolo e lo segnalo. Nessuno lo mette a posto. No però qualcuno dice che questo è un posto di grande sicurezza. Sì, qua è sicuro. Dove è questa sicurezza? È questo? Senti, senti. Io faccio il carrippontista, io cammino sul pollo tetto, non c'è nemmeno la fune di scorrimento. Ho la cinca di sicurezza e non so dove attaccare questa pinza. E allora come ti spieghi tu che vengono tutti questi controlli dell'ARP, dell'ASL? Ah, non lo so io. E tutto passa sempre liscio. Andiamo a questo comune, che cazzo? Giù là! Andiamo di là! Arec了! I teori, i tuoi non spieghi... Viить ora! Si sono tutti buon destino. Andiamo! La che rade! Molta! Va via. È buon destino questa voce. malروca shiny. Grazie.